La scrivania originale del padrino, l'inghia. Ciao Vets, stamattina stiamo andando all'Hol... Cosa andiamo a dove stiamo andando? Al Museo delle Cere. No, al Museo dell'Academy. Stamattina stiamo andando al Museo dell'Academy. Sarà una bella esperienza. Comunque siamo dentro e grazie al buon Brando stavamo pagando 25 dollari a testa. Brando fa guarda che noi siamo studenti. Oh student, student, ha già fatto uno sconto tipo di 30 dollari. L'improvvisazione 10. L'improvvisazione 10. L'improvvisazione 10. L'improvvisazione 10. Piacere. L'improvvisazione 10. E il mio avviso sono state fatte, e questa è la sala dove ci sono tutti i discorsi degli Oscar ci sono anche gli abiti delle persone che ci hanno partecipato guardate che figata grazie a tutti 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 eccoli qua i portrait dei rattori del 90 c'è il personaggio sotto i nomi degli attori candidati e anche oggi non siamo stati presi costumi del padrino e la scrivania originale del padrino grazie a tutti 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 Ah bello questo Spider-Man nel multiverso L'ho visto L'ho visto L'ho visto Batman deturis Non so se avete visto che figata Tutti i costumi Le cose Anche Vabbè Bellissimo Lasciatemi sotto nei commenti Se avete indovinato Tutti i costumi Che avete visto E anche per oggi il video può finire qui Mi raccomando se ti è piaciuto Iscriviti al canale Attiva la campanella Così rimani sempre aggiornato Sulle notifiche Quando pubblicherò i nuovi video E già che ci sei Come al solito Lascia un bel like E noi ci vediamo come sempre Al prossimo video Ciao 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 Ciao